Stasera sei giudice, quindi? Sì, pensi a te, quante mesi t'hanno esperto per... Partita sul campo... E' buona, allora... Come minimo ci viene a vedere Chiaro Sì, dobbiamo tenere alto l'onore E beh, esattamente Della pavesità Esatto, la pavesità Tutti e quattro quelli potevano fare Però il pass non l'avete ancora vinto E il pass l'abbiamo vinto Sì Quando è che avete vinto? L'abbiamo vinto perchè l'abbiamo fatto in squadra Tutti coloro che si sono prenotati Ah, c'è, lo vincete Se li vanno tutti e quattro e li vincete La squadra migliore che li fanno tutti e quattro vincere Siamo stati di noi che ci ha fallito tutti e quattro Ah, quindi me avete puntato sulla quantità Vali Però non è vero che siamo congiuntati, dai Sì Sì Sono praticamente illegale C'è illegale? Sì, io sono illegale Lo voglio dire Sono il più grande stupratore di arbitri di tutti i vostri Dove siamo? Siamo al DKB Al Darwin New Basketball Di Fiorenzola d'Arda Che ci abbiamo messo un po' a trovarla Ma l'abbiamo trovata E basta, noi siamo qua perchè stasera faremo i giurati Pensate voi Alla gara delle schiacciate Allora, la regola era sbagliata Io ho motivato all'arbitro in modo pacato e delicato anche Che la regola era sbagliata Ho creato un casino del campo Ho creato un gran casino Alla fine il nostro ricorso ha dato il frutto Che oggi adesso finalmente si gioca in modo adeguato Adesso che oggi entra a carico come una mina Subito la prima Ah perchè l'altra volta invece va a scarico No, però l'altra volta ha lasciato i colpi buoni alla fine Oggi spara subito Oggi entro con la Cioè lui in moto e schiaccia la moto Mentre va in moto Ah esatto, mentre va in moto Mentre va in moto Grazie a tutti. E' divertito? Molto divertito. Ma sei divertito più perché facevi il giudice con noi o più perché eri qua? Mi sono divertito ad ascoltare le cazzate della coppia Arcarim Arzizza. Che rido perché poi Arcarim va su Facebook e fa il colto. Sapendo? Poi viene qui ed è un disgraziato. L'ora che è tornato a casa ha scritto un post intelligente. L'ho letto e ci sono rimasto di merda. Perché me lo ricordavo 24 ore prima in una versione. Ma qual'è il post intelligente?